Ancora una volta la strada che conduce la discarica di Colletto Zotto è stata blocchata da un anziano che rivendica del denaro dal comune. La storia si è ripetuta questa mattina quando l'uomo si è messo in mezzo alla strada con un cartello e ha fermato i camion diretti a scaricare in discarica. Sono quindi intervenuti come in passato Polizia Municipale, Carabinieri e il Sindaco di Taggia Mario Conio. L'anziano, cui erano stati espropriati dei terreni una ventina d'anni fa per realizzare la discarica e la strada di collegamento, ha nuovamente ribadito le sue richieste al comune ed è stato poi convinto ad allontanarsi. La via di accesso a Colletto Zotto è rimasta bloccata per quasi due ore con notevoli ritardi e problemi per i camion che dovevano smaltire i rifiuti raccolti in tutto il territorio imperiese.